Oggi ha un versante speciale, noi lo facciamo spesso e volentieri, insomma dedichiamo, ripuliamo la nostra trasmissione che di solito è una ampia rassegna stampa culturale e lasciamo spazio a scrittori, scrittrici, persone che hanno progetti culturali da proporci. I libri, lo sapete benissimo, sono il nostro primo amore dentro il racconto quotidiano, per cui fatemi dire che oggi sono particolarmente felice, per me è un onore e un privilegio dare il benvenuto ad almeno due pagine al giorno a Flavio Soriga in collegamento con noi. Ciao Flavio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, intanto per me, te lo dicevo anche fuori onda, per me è davvero un onore, un privilegio perché erano anni che volevo trovare l'occasione e questa volta ho una doppia occasione, insomma, o tripla, insomma, poi fai un po' tu, diciamo, per poter conversare conti intorno ai tuoi libri. Sì, perché? Allora, intanto Flavio Soriga, lo dicevo fuori onda, ma insomma, chi conosce questa trasmissione sa che noi, insomma, le assecondiamo sempre, le passioni, anche dentro, con le definizioni, per cui Flavio Soriga mi ha conquistato anni fa con questo libro qui, Sardinia Blues, pubblicato da Bompiani, e oggi, almeno, insomma, nel 2024, Flavio Soriga consegna ai lettori, ai lettori più piccoli, anche ai lettori adulti, due libri. Il signor Salsiccio, una storia di Ricci, nonni e cambiamento climatico, con le illustrazioni di Riccardo Azzeni, Bompiani, e poi amore alla finestra, un libro di racconti, anche sulla forma, racconto, spero che Flavio avrà voglia di raccontarci anche un po' anche le motivazioni di questa passione. Intanto, allora, cominciamo con, Flavio, intanto grazie ancora per essere qui con noi, cominciamo con il libro che gli adulti non dovrebbero leggere, perché all'inizio di questo libro di signor Salsiccio, una storia di Ricci, nonni e cambiamento climatico, tu scrivi, diciamo, in maniera molto, molto chiara, questa storia è stata scritta per le bambine e i bambini, se hai nove anni va benissimo, se ne hai dieci perfetto, se ne hai undici splendido, se hai dodici, dai dodici ai sedici anni, mio figlio ha dodici anni e glielo sto proponendo, diciamo, in questi giorni, sei ormai grande e puoi decidere tu cosa leggere, cosa fare. I grandi, invece, questo libro non dovrebbero leggere, perché leggerlo? Perché i grandi vogliono sempre capire le storie, il significato di un libro, il messaggio. Allora, io ti ho disobbedito, diciamo, l'ho letto, senza, insomma, andare a cercare, come dire, a tutti i costi, un significato, una morale, però, insomma, è interessante come tu, insomma, in questa fase, abbia deciso di scrivere un libro che sta dentro, come dire, le vene del nostro tempo, rispetto anche ai cambiamenti climatici, anche ai ricci, poi voglio chiederti anche delle robe sui ricci, perché io ne incontro ogni giorno, venendo, facendomi 60 chilometri, ed è una strage, devo dire, no? Perché, partiamo da qui, perché un libro rivolto ai più piccoli e che mette a fuoco questi temi, Flavio? Allora, come spesso mi capita, non so trovare un perché, non so dare una motivazione. Cominciamo da quello che hai detto ora, i grandi non dovrebbero leggerlo. Ovviamente è un po' uno scherzo, però un po' è anche vero che ho provato a scrivere un libro che è esattamente per i ragazzini. Cioè, io l'ho scritto banalmente perché ho iniziato a passare molto tempo con una bambina. Mi sono reso conto che passavo ore, tutti i giorni, a parlare con questa bambina, un giorno, un altro giorno, settimane, mesi, anni. Alla fine mi è sembrato che di questa bambina un po' riuscissi a capire la voce, il modo di pensare. Questa bambina è la mia figlia. Ma poi sarebbe potuta essere, tutto sommato, anche un'annipote. O, che ne so, una vicina di casa se avessi dovuto badare a lei. Però, davvero, a me interessava a quel punto raccontare una storia a questa bambina. E l'ho scritto per lei. E come mi è capitato sempre nella vita, non ho pensato a come si fa, né al fatto che potessi o meno farlo. Ho iniziato a scrivere, a raccontare. Quando l'ho finito, glielo ho letto, glielo ho fatto leggere, le è piaciuto. Ho detto, va bene, adesso per me questa storia ha avuto già successo, se è piaciuto a lei, a questa bambina. Poi, se piace anche agli altri, va bene. Io ho iniziato a scrivere a 25 anni, ho pubblicato a 25 anni e non avevo fatto nessun corso. Questo è un lavoro strano, scrivere, ammesso che sia un lavoro che si può iniziare a 15 anni, a 20. Ma anche quando uno va in pensione a 81 anni, può iniziare a scrivere. Si può scrivere persino dopo essere stati in prigione. Anzi, in prigione si raccolgono storie interessanti. Probabilmente non è una buona idea farsi arrestare apposta, ma si può fare. Insomma, è un lavoro che si fa, io credo, senza che nessuno di quelli che iniziano sapesse come si fa. L'unica donna italiana ad aver vinto il Nobel non aveva studiato all'università per diventare scrittrice. Aveva la quarta elementare, era grazie dell'Edda. Dopo la quarta elementare, 100 anni fa, in Sardegna, ti portavano via da scuola il più delle volte, ti mandavano a pascolare i buoi o le pecore. Lavoro degnissimo, ma insomma a 9 anni è abbastanza complicato. Le bambine le si preparava a diventare mamme e padrone di casa. Grazie a l'Edda però non si è resa, ha continuato a scrivere, evidentemente senza sapere come si fa. Questo non è un discorso contro le scuole di scrittura che vanno benissimo, ho elaborato di scrittura, però io non lo sapevo come scrivesse un libro per bambini. Ho iniziato a scriverlo e mi è piaciuto, però ho pensato che lo stavo scrivendo per i bambini. Io non volevo mandare un messaggio agli altri lettori, ai genitori dei bambini, né alle maestre dei bambini. Mi sono anche pentito di aver scritto una storia di Ricci in ogni cambiamento climatico, perché a un certo punto una bibliotecaria mi ha detto ma lei ha deciso la casa editrice perché va di moda. Io non ci avevo proprio pensato che potesse sembrare, è che è proprio uno dei protagonisti del libro, e il cambiamento climatico, perché i Ricci nascono ad inverno, perché le mamme Riccio non capiscono bene cosa sta succedendo perché è caldo. Però tutto sommato oggi non lo rimetterei nel titolo. Ripeto, io volevo scrivere una storia per i bambini, i grandi. Se lo vogliono leggere va bene, che però non cerchino messaggi segreti o nascosti, perché a me non interessano nei libri. Sto leggendo questi giorni la storia di Elsa Morand, che è un grande capolavoro, non ho mai pensato neanche una volta che cosa, quale messaggio ci fosse. Lei ha vissuto Elsa Morand la guerra, i bombardamenti a Roma, e li ha raccontati, io credo che questo sia il lavoro di scrittore, raccontare. Ecco, raccontare, a proposito insomma anche poi di proporre questo libro anche ai più piccoli, io in realtà prima, quando il libro mi è arrivato, prima di leggerlo ho detto a mio figlio, Pietro guarda che questo è un libro che dovresti leggere, Pietro è un appassionato di natura, anche di ambiente. E lui non l'ha letto, ovviamente. Non l'ha ancora letto, però poi dopo ho capito perché non dovevo dirgli, guarda che riguarda la natura, l'ambiente, perché c'è molto altro dentro, c'è, come dire... Sì, ma perché se dici un libro sostanzialmente ti annoia già l'idea, di che adesso devono fare la spiegazione Cina. E poi, come dico sempre, quando vado a fare i laboratori con i bambini non si può purtroppo, non si trova mai il modo di contagiare le nostre passioni agli altri, quindi quando dici a uno mi raccomando leggilo perché è meraviglioso, quasi sempre ottieni l'effetto opposto e succede così. Poi io molti libri per bambini li trovo proprio scritti per i grandi, cioè è difficile perché ovviamente i bambini non possono scrivere i libri per se stessi, cioè non abbiamo scrittori di otto anni che possano scrivere romanzi per bambini di otto anni, perché a otto anni non sei ancora capace, come è il tuo diritto, quindi li devono scrivere i grandi, però questo è un problema, è come se solo persone europee e bianche scrivessero romanzi sui nativi americani, non va bene, faccio per dire, no, è giusto che ognuno racconti le storie che sente più vicine, dopodiché ci possono sempre essere migliaia di eccezioni. Per i bambini ci sono solo eccezioni, sono sempre grandi che raccontano libri per bambini e bambine, però credo che sia importante cercare di raccontare le cose che possono interessare loro, che poi sono avventure. Però l'esperimento, l'elemento interessante, credo, di il signor Salsiccia è che, come dire, a parlare, diciamo, è Nora, la protagonista di Nove Anni, e cosa mi è piaciuto in particolare di questo libro? Il fatto che tu, con la tua scrittura, ti sia messo di lato, diciamo, no, e hai fatto, come dire, raccontare, hai raccontato più che altro molto bene questo, il rapporto che ha Nora con un elemento fondamentale che è quello della crescita, perché, insomma, le difficoltà, no, e questo è un elemento fondamentale, questo credo che non sia da tutti, perché mettersi di lato, come dire, far parlare una bambina di nove anni che fa i primi conti anche con i dispiaceri, con i dolori, qui c'è Sofia, la sua amica che finisce in ospedale, non dico altro, insomma, e c'è questo elemento di sofferenza di Nora che vuole incontrare la sua best friend forever, diciamo, no, e quindi mi piace molto il taglio che hai scelto per far parlare Nora, no? Guarda, io ho avuto una figlia, appunto, da grande, avevo 38 anni, non pensavo che avrei avuto figli, invece è stato bellissimo, ma ovviamente non ero pronto, anche quella è una cosa a cui non si può essere mai preparati, però mi sono un po' messo a studiare quando è successo, perché un sacco di cose sull'educazione, sul crescere dei figli, non ci avevo mai riflettuto, anche perché non è che fanno un corso, nessuno di noi fa i corsi, però io avevo bisogno di capirci qualcosa, almeno di illudermi, di provare a capire qualcosa, poi più leggi, più ti informi, più segui gli educatori, più capisci che ne sai meno di prima, ma però, insomma, per esempio questa cosa io non ci avevo mai pensato, che i genitori non sono lì per evitarti di soffrire, i genitori non sono lì per proteggerti da qualunque sofferenza, cioè, naturalmente devono proteggerti, ma la sofferenza, non riesco a fare i compiti, ho questa materia, in questa materia faccio, ho difficoltà, i genitori la devono accettare, cioè i bambini devono avere delle piccole sofferenze, delle delusioni, devono affrontare le sconfitte, se no non crescono e diventano dei ventenni incasinatissimi, perché se uno non impara a gestire anche i limiti che la vita ci dà, crede che tutto sia possibile nella vita e questo non è sano. E allora, ripeto, questo che adesso io sto dicendo come se fosse un educatore che non sono, nella pratica un genitore lo vede tutti i giorni, se tua figlia si butta in terra, come mi era successo, perché vuole un giocattolo in edicola a qualunque costo, a tre anni, a quattro anni, tu devi essere forte, naturalmente tu vorresti subito tirare fuori cinque euro e comprare il giocattolino, ma se hai detto no, oggi non lo dobbiamo comprare, devi tenere duro e capire che quella sofferenza, quel rotolarsi per terra di tua figlia le servirà da grande, non è facile, perché poi noi abbiamo questo tema dell'abbondanza, del dare tutto, del voler tutto per i nostri figli. Allora, quest'altra cosa a cui non avevo mai pensato e che ho pensato scrivendo, la dico velocemente, le favole classiche, le storie per bambini di 80 anni fa, di 100 anni fa hanno come principale la fame, per esempio. La fame oggi, se non sei in guerra, perché per carità la fame c'è, se non sei in un paese molto povero, è che c'è, per carità, ma una storia ambientata in un incidente, in cui uno mette il tema della fame, e i bambini, il concetto di fame, un bambino occidentale, ripeto, fortunato, non lo capisce il concetto, perché al massimo per lui la fame è saltare lo snack, la merenda, puoi saltare una cena una volta se c'è stato un disastro, ma la fame che avevano 80 anni fa, o che hanno, ripeto, ancora oggi in guerra, per carità, la fame che ti tiene sveglio, che ti fa star male, e quelle storie lì non si capiscono bene. Oggi abbiamo altri temi in occidente, che non è che siano sfide meno importanti, perché i genitori sono meno tragiche, per fortuna, però c'è ancora la malattia, naturalmente, ci sono bambini che muoiono, ma insomma, abbiamo il diritto, ogni generazione ha il diritto, di raccontare storie con il proprio linguaggio, con i temi che sono importanti per quella generazione. Allora, fammi dire che questo è comunque un libro sulla cura, diciamo, perché è una storia di cura sostanzialmente, perché prendersi, come dire, davvero curare un riccio che si è perso, che è stato mollato dalla mamma, o che comunque, diciamo, la mamma ha lasciato da qualche parte, un animale che tra l'altro, tu lo scrivi più volte, e in questo libro è un animale che non vuole carezze, anche perché è un po' complicato farle carezze, è un riccio, diciamo, è una storia di cura e tra l'altro recupera anche una sorta di storia vera, perché tu raccontavi di questo signor Antonio Salciccia di Milano, che in realtà, poi, dal quale poi è stato preso il nome, è una storia di cura, una storia di crescita, diciamo ancora, perché c'è un trasferimento da Sasseri a Cagliari, con la storia con la quale deve fare i conti Nora, insomma, di storia di cura, fammi dire, anche fin troppo retoricamente, forse abbiamo bisogno, perché, anche usando, tra virgolette, la metafora del riccio, perché siamo in un tempo in cui, come dire, le relazioni sono forse fin troppo sfilacciate, o sono io fin troppo retorico, non so, Flavio, cioè mi puoi anche castigare, diciamo, su questa retorica, diciamo. no, allora, il riccio che Nora trova è un animale selvatico, e quindi dovrà essere rimesso in natura, e lei e il suo padre e la sua madre lo sanno, decidono di prendersi cura di questo animale, di amarlo, pur sapendo che se ne andrà, io quando vado a scuola a fare i laboratori, dico, è come se una vostra compagna arrivasse in classe, una nuova compagna, che sa già che a gennaio si deve trasferire e tornare in un'altra città, non è che la amate di meno, che le volete meno bene, e che dite, vabbè, ma non cerco di diventare amico di questa, tanto se ne va fra quattro mesi, i bambini non lo fanno, non dovrebbero farlo neanche i grandi, perché questa idea che l'amore deve essere per sempre, l'ha detto Hollywood, ma non ha molto senso, cioè, ci si può innamorare, si può voler bene, si può essere best friends forever, per tre mesi, i bambini non hanno problemi a farlo, poi si perde un po' questa cosa, oppure i bambini lo assorbono, questo mito dell'amore per sempre, da appunto, dalle storie raccontate al cinema, però Nora sa che il riccio dovrà essere rilasciato, e peraltro è un amore, come hai appena detto, che non prevede carezze, non è un peluche, il riccio non è un peluche, questo è un altro tema grande che i genitori devono affrontare, i figli vogliono un cane, ma lo immaginano come un peluche, che te lo spupazzi, poi quando ti stufi lo prendono i nonni, invece questo è un grande insegnamento, se ti devi prendere cura di un animale, te ne devi prendere cura sempre, e in questo caso solo per tre mesi, perché poi deve tornare libero, e pazienza, ci si è amati, ci si è evoluti bene, o almeno loro hanno voluto bene il riccio, il riccio non lo sappiamo, se gli ha voluto bene, però forse un po' di gratitudine ce l'avrà, o forse lo scoprì almeno in un altro libro, se gli ha voluto bene, fatto sta che il riccio poi torna in natura, e questa cosa di prendersi cura, che tu dici ovviamente, è un altro tema dei nostri tempi, prima ci si prendeva cura di chi viveva vicino, dei cugini, si viveva, dicono gli educatori, in gruppi che nascevano in maniera casuale, spontanea, gruppi spontanei, si andava in piazza, o per strada i bambini, ci si prendeva cura l'uno dell'altro, oppure nel vicinato, le signore davano un occhio a tutti, o le zie con i cugini, adesso si è molto più chiusi negli appartamenti, se vuoi invitare un bambino a giocare, devi proprio invitarlo, portarlo, abbiamo più paure, comprensibilmente, ecco abbiamo anche più attenzioni, però per esempio a scuola, questo succede, le maestre oggi, sono proprio quelle che si prendono cura, per forza, ma anche per vocazione, si prendono cura degli ultimi spesso, perché nelle scuole, se tutto va bene, ci sono i figli e i notai, i figli di quelli appena arrivati da un paese povero magari, o da un paese in difficoltà, quindi c'è il figlio del notaio, che conoscerà un sacco di parole desuete e colte, e ci sarà quello che sta imparando a parlare, io vado a fare laboratori, ieri era a Torpignatara, c'erano dei bambini, ho chiesto alla maestra prima, mi hanno detto, guarda questi tre non lo parlano in italiano, ho detto, vabbè se non lo parlano per niente, non mi preoccupo di rallentare il racconto, o di cercare di usare altre parole, e non lo parlavano per niente, stanno entrando, imparando, bisogna prendersi cura dei bambini, non solo a casa, ma anche a scuola, e le maestri, ripeto, i maestri, eroicamente lo fanno, e i bambini lo fanno, perché vabbè, adesso veramente qua finiamo per essere rettolici, però, i bambini sanno anche essere cattivi, spietati, escludere, ma, soprattutto da piccoli, invece tendono ad accogliere, a non fare differenza, a non vederle le differenze, vabbè, vi sarà capitato, se in un gruppo c'è un bambino nero, è rarissimo che vostro figlio ve lo indichi così, e poi c'è Samuel che è nero, vi dirà quello con lo zaino verde, quello con i capelli lunghi, perché lui che è nero non lo vede, non gli sembra un elemento discriminato, cioè di distinzione, ecco, di distinzione nemmeno cromatica, perché sono cresciuti in una realtà, dove ci sono tante diversità, che poi, dico nero, ma può essere anche siciliano, se a Cagliari è, che magari per noi è evidentemente diverso, almeno per l'accento, non lo sentono questa differenza, poi, noi lavoriamo, dovremo lavorare, perché rimanga un po' di questa magia, di questa capacità dei bambini. Esatto, io sono perfettamente d'accordo con te, ti ascoltavo e ripensavo, diciamo, agli anni della scuola elementare, in questi anni della scuola media, anche di mio figlio, in cui davvero le differenze, chiamiamole come vogliamo, non ci sono, cioè al massimo hai uno zaino diverso, hai le scarpe differenti, ma hai il colore della pelle, chi se ne frega, assolutamente. Un altro elemento, siamo quasi in chiusura di questa prima parte, che viene fuori, insomma, ed è bellissimo che tu lo tiri fuori, dentro il romanzo Signor Salsiccia, è l'elemento della creatività, allora, si ritorna anche a scuola, insomma, ai giochini, tu dici, ci abbiamo fatto tutti i conti, con i giochini, e eccola lì, vedi, manco a farlo apposta, ed è proprio, era qui che volevo portarti, perché uno dei disegni, una delle illustrazioni di Riccardo Azzini, è proprio questo qui, di cui tu hai il disegno, insomma, più grande, insomma, che cosa vuol dire, uccidere la creatività oggi, è bellissimo quello che dice Nora, perché io leggo internazionale, internazionale kids, disegno, leggo, scrivo, per cui, anche qui, diciamo, c'è una sovrastruttura, che è quella, diciamo, delle cosiddette centrali educative, che pensano che tutto ciò che, come posso dire, va fuori dal percorso pedagogico, uccide la creatività, mi verrebbe da chiederti, anche molto banalmente, ma di che cosa stiamo parlando, cioè i ragazzi hanno anche una capacità, diciamo, di autodisciplina, rispetto agli istinti creativi, che è tutta propria, è una delle cose che angoscia i genitori, cioè i genitori più attenti, uso questa prova progressista, che in questo caso non lo intendo affatto come di sinistra, è di quei genitori attenti, che vogliono, vorrebbero che i figli fossero i più grandi tennisti del circo di tennis che frequentano, i più grandi violinisti della scuola di musica che frequentano, e anche un po' artisti, però anche il liggio ha il dovere, rispettosi delle istituzioni, eccetera eccetera. Ma anche un po' dottori, anche un po' dottori, diciamo. Il futuro naturalmente dottori e primari, però insomma nel frattempo, quello che ci dicono è, attenzione non comprateli tutti quei giocattoli, perché uccidono la creatività, il che è assolutamente vero, cioè i bambini senza giocattoli, se li ne dai pochi, si inventano più cose, eccetera eccetera, però allo stesso tempo, il genitore sa anche, che queste non sono regole scritte sul marmo, e che quindi insomma si può venire a pati, però i bambini gli arrivano questi allarmi, non c'hai troppi giochi, la creatività, devi leggere una rivista, devi andare al laboratorio, devi andare a vedere gli spettacoli, c'è il rischio che poi questo diventi un dovere, anche lì, di performance, cioè uno vorrebbe che il figlio fosse creativo, alla fine finisce semplicemente per mettergli ansia, perché sono stimoli contrastanti, e sono cose con cui ci barcameniamo da genitori, sapendo che non c'è modo giusto, possiamo solo sbagliare, se va bene hai fatto pochi errori. Nella società della performance, come dici tu, è bellissimo poter parlare senza nessun timore, di errori, di fallimenti, insomma anche dentro questa trasmissione è sempre molto presente, allora Flavio se tu sei d'accordo, è tempo di informazione, di GR di Popolare Network, di infotraffico, insomma allora io ti direi, ci ritroviamo qui, e lo dico anche ai nostri telespettatori, ai nostri ascoltatori, ci ritroviamo qui tra una manciata di minuti, perché siamo ancora con Flavio Soriga, tra poco. Per chiudere i nostri ragionamenti intorno a Signor Salsiccio, una storia di ricci nonni e cambiamento climatico, pubblicato da Bonpiani, ecco qui la copertina, con le illustrazioni di Riccardo Azzeni, che tra l'altro ti porti in giro per le presentazioni, no Flavio? Sì, stiamo facendo degli spettacoli a scuola, in cui proviamo a raccontare che il lavoro è quello dello scrittore, cosa sono i generi letterari, come scegliere un libro, sì, quindi andiamo in giro con gli ingrandimenti anche del libro. Allora, dicevamo che uno dei protagonisti di questo libro è il Signor Salsiccia, un riccio, e anche una curiosità che voglio condividere con te, io passo molto tempo in automobile, e negli ultimi mesi, diciamo, di ricci per strada, purtroppo, spesso, senza vita, ne vedo tanti, ma da quello che, non so se hai fatto delle ricerche, perché vedo che alla fine del libro c'è anche una sezione dedicata a chi chiamare, e anche cosa fare, diciamo, se si trova un riccio per strada, ne avrai viste di cose, cioè io ne vedo di ricci, sono aumentati, perché ne vedo così tanti? Sarà che ci faccio più caso, forse da quando ho letto il tuo libro, non so. Allora, ci sono dei centri di recupero degli animali selvatici, alcuni proprio dedicati a ricci, uno è stato fondato da un veterinario che aveva trovato un riccio molto piccolo, se ne è occupato, e poi ha scritto un libro per Mondadori, o forse due addirittura, in cui raccontava questa storia della sua vocazione, che lo ha portato ad aprire un centro di recupero. Poi c'è un altro, che si chiama Rifugio Maltidico, a Reggio Emilia, che è quello a cui mi sono rivolto io, quando mi è capitato di trovare un riccio appena nato. Questi ricci appena nati, che nascono d'inverno, sono destinati a morire, perché appunto nascono nel periodo sbagliato, non riescono ad andare in letargo con cibo sufficiente in corpo da affrontare l'inverno, quindi bisogna portarli nei centri di recupero. Però la cosa più importante è che quando si trova un animale selvatico, non bisogna toccarlo, non bisogna intervenire, ma chiamare un veterinario o un centro di recupero, che ci diranno, in base alle nostre indicazioni, se davvero dobbiamo aiutarlo, perché spesso l'uomo per aiutare fa danni. Allora, alla fine del libro ho messo un disegno con tutte le opzioni, come i giochi di quando eravamo bambini sul topolino, se trovi un riccio devi valutare questo, questo e quest'altro, ed è una cosa che avevano proprio loro del rifugio maltidico sull'home page. In generale, quando vado nelle scuole, ormai tantissimi bambini mi dicono che hanno visto o hanno aiutato dei ricci lasciando lì del cibo. L'unica cosa che posso dire che ho scoperto e che mi ha veramente strabiliato è che se lasciamo del latte in giro, il latte uccide i ricci, perché è troppo grasso. Questa è una cosa che è impossibile secondo me sapere. Per il resto, a me è capitato davvero di dovermi occupare per qualche mese del riccio, di un riccio così, d'accordo con il centro di recupero, l'ho tenuto in casa a prezzo di grande fatica, ero più in ansia di quando era nata la bambina, perché, cioè, per carità, ovviamente la bambina se sta male sai che puoi andare da un pediatra. Il riccio non sapevo come fare per qualunque cosa, quindi ho fatto la testa così alla povera veterinaria del rifugio maltidico che a distanza mi ha guidato. In generale, ormai, noi consideriamo, credo, in Occidente la sofferenza degli animali, l'eventuale morte di un animale è una sofferenza grande, anche se poi mangiamo la carne, il che naturalmente è un po' assurdo, però rimane questo dato, non siamo abituati anche nella nostra vita, nella nostra società, a veder soffrire gli animali, per fortuna, eh, per fortuna, sono piccole conquiste. Poi, ripeto, mangiamo lo stesso gli animali di allevamento e questo fa parte dell'assurdità del nostro tempo. E c'è una riflessione interessante all'interno del signor Salsiccia proprio su questo tema, rispetto al fatto che molto spesso, come dire, andiamo più in paranoia, tra virgolette, per il nostro cane, che rispetto, diciamo, poi alla natura, poi buttiamo lavatrici e frigoriferi dappertutto e facciamo anche molto altro. Tutto questo è molto, molto di più, devo dire, dentro il libro signor Salsiccia, una storia di Ricci, nonni e cambiamento climatico. Ci spostiamo su un altro versante, insomma, tu hai pubblicato il signor Salsiccia il 27 marzo, l'8 maggio, questo libro qui, il libro di racconti, Amori alla finestra, con una copertina bellissima che mi ha ricordato Physical Graffiti delle Zeppelin, per cui, come la copertina del disco, quindi, insomma, ti aggiungo anche questa suggestione personale da lettore. Amori alla finestra è un libro di racconti, di racconti lunghi, e tu ci tieni spesso a specificare perché dici che vuoi che il lettore o la lettrice facciano anche la fatica di conoscere un personaggio che è nuovo, che tu non ti porti dietro per, che ne so, 500 pagine, ma in ogni caso, come dire, devi, vuoi che, come dire, il lettore faccia anche un po' fatica ad abituarsi, diciamo, ad un personaggio dentro il racconto. Diciamo... No, in realtà, in realtà, quello che intendo è un'altra cosa, scusami, preciso. Secondo me, uno, in Italia si leggono pochi racconti, questa è una delle frasi che si dice più spesso nel mondo dell'editoria, dei festival, eccetera, non lo so se è vero, però è vero che anche a me fa fatica, quando un racconto è breve, l'idea di dover iniziare una storia, incontrare dei personaggi e dopo 5 pagine è finito, devi ricominciare con altri. Invece, un racconto di 30 pagine, di 50 pagine, è sì, è un racconto, non è un romanzo, però è dura questa frequentazione con questo personaggio, secondo me è meno fatica leggere un racconto lungo e la fatica grossa quando inizi un libro è abituarti al linguaggio o ai personaggi, al linguaggio dell'autore, ai personaggi che incontrerai. Naturalmente fai più fatica se è scritto male, meno fatica se ti prende subito, quando iniziamo a leggere i romanzi americani, per dire tipicamente hanno quella capacità di portarti dentro la storia, poi magari è facile iniziare e poi dopo non ti lascia niente, un libro, ci sono tutte queste possibilità. Insomma, questi sono racconti lunghi perché volevo proporre delle storie strutturate, un po' più strutturate che non di quello che succeda con i racconti brevi. Ti ringrazio per questa precisazione, il tema che attraversa i racconti è il tema dell'amore. Insomma, anche lì tu hai specificato in altre interviste che non è necessariamente il tema dell'amore che finisce male o quantomeno l'amore che finisce o che cambia, diciamo, per cui non è un libro di racconti da osservatore perché insomma non è che stai alla finestra guardi e scrivi e racconti perché è tutto molto calato dentro la realtà quotidiana. Io credo che chiunque di noi si sia ritrovato in qualche versante, io almeno in due o tre versanti mi sono ritrovato, per cui mi interessa anche chiederti insomma c'è questo andamento che è quello blues. Da Sardinia Blues partiamo con Torpigna Blues e c'è questo racconto che ha quel ritmo lì diciamo perché il blues è anche malinconia è anche nostalgia e partiamo da qui insomma tu parti da Roma parti da Torpigna Blues e racconti forse quello che dal mio punto di vista di lettore il racconto più più struggente fammi dire così non lo so non ci ho pensato però quello che ti posso dire è che io avevo scritto un libro nel 2007 che per carità non aveva letto nessuno che si chiamava L'amore a Londra in altri luoghi e alcune di quelle storie le ho riprese però avevo 22 anni adesso ne ho quasi 50 e mi sono reso conto che scrivere d'amore ci si innamora anche a 75 anche a 81 probabilmente forse anche a 91 ci si innamora ci si innamora da bambini ci si innamora da anziani non è per forza che l'innamorarsi porti o debba prevedere un rapporto fisico però ci si innamora ci si innamora e si soffre a tutte le età però obiettivamente il livello di coinvolgimento di quanto questo amore può sconvolgere la tua vita forse cambia o forse semplicemente cambia per me adesso comunque mi sono reso conto che sono storie diverse quelle che racconto adesso alle porte dei 50 e quelle che raccontava 27 l'impeto che mettiamo il coinvolgimento la grandezza la scala degli errori che riusciamo a fare dei ragazzini per fortuna mi sembra un po' si rimpicciolisce o forse no non lo so alla fine vedi appena dico una cosa che sia una teoria mi sembra che facili per fortuna gli scrittori non devono o non hanno l'obbligo di elaborare teorie io non sono un autore che voglia proporre una teoria dell'amore o della famiglia negli anni scorsi abbiamo sentito molto dibattito teorico su come le famiglie devono possono essere sul strutturare o strutturare la famiglia tutto secondo me è utile a livello di dibattito quando si fa invece narrativa o si racconta una storia in un film o in una serie tv non mi sembra che sia una cosa salutare avere una teoria in partenza devi raccontare delle storie e anche quando la storia è una storia di una famiglia che si sfascia che ha che si sfascia che finisce in una forma magari la tua ex fidanzata si fidanza con una giovane ragazza o con una sua coetanea che ha già una figlia quindi tu hai una ex che sta con una donna che ha una figlia a sua volta ecco che si sia di destra di sinistra conservatori progressisti questa è la realtà il nostro mondo è un mondo più complicato e per questo anche che spuntano fuori tanti conservatori o reazionari cioè quelli che dicono ma non era meglio prima che era tutto più semplice no non era meglio prima perché di solito il marito picchiava la moglie o poteva succedere più spesso succederà più spesso adesso succede ancora a nove anni ti portavano via da scuola se all'inizio novecento in Sardegna quindi non era meglio prima semplicemente le cose cambiano e questa realtà è più complessa però non possiamo neanche negare che sia più complessa e che sia faticoso avere a che fare con una complessità maggiore quindi i personaggi di questi racconti semplicemente vivono in un mondo complesso e fanno i conti per quello che possono con la complessità del loro tempo questa complessità che viene resa molto bene dentro i cinque racconti e tornano anche i bambini e c'è una frase che mi ha colpito particolarmente in cui tu scrivi i bambini ti fanno una sola richiesta il tempo su questo insomma al di là della multiformità delle famiglie questo è vero insomma il tempo che e non fanno differenze di qualità esatto c'è un bambino scena tipica padre separato o madre separata ma di solito sono i padri separati a vederli di meno hanno il sabato e la domenica e allora preparano tutto un programma per fare due giorni meravigliosi il bambino non vuole due giorni meravigliosi vuole stare con te più ore possibile magari davanti alla tv in soggiorno i bambini vogliono moltissimo tempo da te adulto e questo è faticosissimo ovviamente e magari anche prendersi il tempo per stendere la pasta all'uovo come si fa anche dentro il signor Salsiccia bellissimo e in un altro racconto giudichessa insomma la figlia a Eleonora le storie interessavano sempre se venivano raccontate con un po' di passione perché cito l'elemento delle storie perché è quello che è la materia di cui diciamo è impastato il tuo lavoro tu parli sempre nelle tue interviste del fatto che sei uno che scrive che racconta storie questo mi ha permesso e ti ringrazio anche per questo di farmi diciamo passare buona parte del pomeriggio di ieri davanti alla mia libreria di casa a cercare questo libro che non trovavo più che sono i 49 racconti di Ernest Hemingway c'è un racconto che tu citi spesso dicevi in un'intervista alla RAI dicevi c'è un racconto un posto pulito illuminato bene che leggo almeno una volta al mese l'ho riletto ed effettivamente diciamo c'è la quintessenza diciamo del racconto che tu dici Hemingway scrive invece racconti brevi e riesce a condensare diciamo tutto quello che vuole dire dentro due tre quattro pagine partiamo da qui diciamo raccontare le storie oggi è tutta narrazione noi nel nostro lavoro quotidiano di giornalisti ci rendiamo conto che la narrazione è ovunque ma insomma per uno scrittore che non lo so se predilige il racconto breve rispetto al romanzo lungo diciamo che questo vuol dire scrivere storie nel 2024 no questo è veramente difficile è difficile rispondere cosa vuol dire perché continuiamo a scrivere libri cioè io ho iniziato nel 2000 c'erano più case editrici pagavano più anticipi adesso ci sono moltissimi più festival esatto e quasi più sì moltissimi festival ce n'è uno in ogni paese giustamente bellissimo quindi lo scrittore ha quest'aura di importanza durante la presentazione del festival poi il resto della giornata è uno sfigato totale cioè di solito ha anche un altro lavoro è difficile ma non è una lamentela cioè io non lo so se ha ancora senso anche perché obiettivamente un sacco di scrittori hanno accettato comprensibilmente quelli giovani non lo dovevano neanche accettare lo trovano naturale essere anche degli influencer quindi usare i social per presentare libri fare il reel essere divertiti entiocomici lo è diventato persino Barbero anche se lui non l'ha cercato eppure è un professor vecchio stile uno scrittore cioè obiettivamente l'immediatezza a cui siamo abituati di comunicazione la brevità la comunicazione un po' sembrerebbe dirci che le storie lunghe 20 o 200 pagine avranno meno posto nella nostra vita poi però miracolosamente prendi la metropolitana a Milano o a Torino un bus a Cagliari e trovi ancora tante persone che leggono romanzi quindi sopravvive questa forma di racconto non è detto che sia un romanzo di un autore vivente poi pubblicano sempre più persone ma rimane per poco tempo il libro in libreria non lo so io mi sembra che ne ho ancora voglia di scrivere sapendo che insomma non bisogna il mondo è indifferente a quello che facciamo questo vale persino per i capi di stato che credono di avere un'influenza sulla storia poi verranno dimenticati anche loro ma figuriamoci gli scrittori però alla fine tutti i giorni dobbiamo fare il nostro lavoro e ognuno ha scelto un lavoro e lo fa io scrivo ripeto sapendo che sono un influente ho un po' di lettori che mi seguono per lo più sardi generosi che continuano a comprare i miei libri non sono molti ma mi permettono di continuare a essere pubblicato poi non sono Nicola Laggioia anche se Nicola Laggioia esordito dopo di me io mi ricordo quando un editore di Enaudi mi aveva detto uscirà un libro di uno scrittore bravissimo Nicola Laggioia e io ho detto cavolo non vedo l'ora di leggerlo perché io da giovanissimo ero già pubblicato però non ho mai raggiunto quel livello di successo si invecchia quando diventi grande vedi che quello che è iniziato con te è diventato il direttore dell'azienda e tu no è sano fare i conti con tutte queste cose poi la cosa buona dell'editoria e dello scrivere è che gli scrittori non sono in competizione cioè se Nicola Laggioia vende 25 milioni di libri non ne toglie uno a me quindi io sono proprio felice per lui che è peraltro un ragazzo meraviglioso un adulto meraviglioso ormai non siamo in competizione casomai tendiamo a dimenticarcelo poi è anche umano come dire ogni tanto essere invidiosi però poi i lettori di tutto questo non sanno niente per fortuna non si interessano a tutto questo si si tu dicevi in un'altra intervista che in cui spergiuravi che quel libro non era un libro autobiografico perché non scriveresti mai di uno scrittore che scrive un libro perché di solito le vite degli scrittori sono poco interessanti in un minuto e mezzo non è vero quello che insomma che riguarda Flavio Soriga perché ti voglio fare una domanda ma nel 2024 tornerà una nuova edizione di Natale Acido perché so che tu curi questa rassegna psichedelica diciamo di racconto sotto Natale diciamo ci sarà un'edizione 2024? Sì la facciamo sicuramente a Sud Circulo a Cagliari un posto bellissimo anche militante di solito siamo una decina di scrittori scrittrici ma anche persone che non scrivono di lavoro ma che sono appassionate di scrittura o che ci provano con noi saliamo sul palco una alla volta cinque minuti a testa con un gruppo rock o comunque della musica e raccontiamo il Natale o le feste in modo di sacratorio bellissimo e allora c'è un modo per seguirvi perché qualche anno fa avete fatto anche delle dirette sui social delle giornate il mio Instagram il mio Facebook lo annunciamo sempre magari quest'anno facciamo anche la diretta adesso lo dico agli altri magari sotto Natale torno a disturbarti magari presentiamo mi piacerebbe moltissimo venire a Cagliari per presentare l'edizione 2024 di Natale Acido allora intanto siamo davvero in chiusura signor Salsiccio una storia di ricci nonni e cambiamento climatico Bompiani amori alla finestra ancora Flavio Soriga per Bompiani Flavio spero sia stato un buon tempo anche per te grazie per essere stato da meno è stato piacevolissimo sei una persona generosissima grazie a tutti grazie a tutti